Calcio d'angolo è ripreso da pochi minuti il secondo tempo stiamo perdendo per 1 a 0 per un gol l'unica azione della terza Mariocano mentre poi dopo noi abbiamo tenuto per lunghi contratti il controllo di palla e abbiamo avuto 2-3 occasioni nitide da gol Rete 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 chi l'ha fatto? Giuseppe e Gian Cristoforo giusto? Abbiamo pareggiato pareggiato qua al comunale di Atessa Gian Cristoforo a Giuseppe ha realizzato la rete Giuseppe e Gian Cristoforo numero 4 uno pari al momento un pareggio meritatissimo voglio vedere se qualcuno c'ha da dire qualcosa sul pareggio meritato appunto specialmente la panchina maggi! maggi! maggi!